Un grido d'aiuto disperato, quello che Giovanni Carrozza ha lanciato dai microfoni di Telemolise. Non merito di finire in mezzo a una strada, detto sempre pagato, ma ora sono allo stremo. Quella lettera di sfratto ricevuta dallo IACP gli ha tolto ogni forza. Lui che ha sei figli minorenni, un solo stipendio e soprattutto una bambina in ospedale a Roma con la leucemia che necessita di cure continue e della madre sempre a fianco. La quale dunque non può essere presente a casa, cercarsi un'occupazione e aiutare il resto della famiglia. Stando alla lettera dello IACP, lo sfratto dalla Casa Popolare a Campobasso, dove vive, sarebbe stato esecutivo il 21 novembre, perché Carrozza ha una morosità nei confronti dell'istituto di oltre 6.000 euro. Ma il neocommissario straordinario Francesco Di Falco ha subito preso a cuore la vicenda. Non ci sarà alcuno sfratto, ha detto, non siamo insensibili né carri armati, ha precisato, ma una soluzione la troveremo, anzi la stiamo già trovando. Di Falco ha parlato con il consigliere regionale Petraroia, l'unico insieme all'Associazione Tedeschi ad aver affiancato Giovanni Carrozza nella sua battaglia. Insieme stanno andando avanti e sono in tanti già ad aver chiamato la nostra redazione per sapere come aiutare Giovanni. Il debito nei confronti dello IACP, ha spiegato il commissario, verrà dilazionato in rate comode, ma deve essere recuperato perché le case popolari sono pagate con i soldi dei cittadini e non si può far finta di nulla. Questo però non significa evidenziato che non abbiamo un cuore, e ripeto, Carrozza e la sua famiglia non saranno mandati via dalla loro casa. L'Associazione Tedeschi aveva avanzato l'ipotesi di dare un alloggio più grande a Giovanni e ai suoi figli e soprattutto per la bimba malata. E anche a questa proposta Di Falco ha risposto «La casa è già abbastanza spaziosa, ma se ce ne sono altre, migliori, ci attiveremo per fargliela avere». Infine, per aiutare i Carrozza a estinguere il debito di 6.000 euro verso lo IACP, quest'ultimo ancora si è mostrato aperto anche all'altra richiesta dell'Associazione, mettendo però a disposizione il conto corrente dell'Istituto, senza aprirne uno specifico, e cioè possibile fare un versamento sul conto corrente postale numero 1309 58 64, intestato agli ACP, provincia di Campobasso. Per la causale scrivere pro Giovanni Carrozza, codice 7109. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente all'Istituto autonomo Case Popolari del Capoluogo. Un gesto di umanità verso chi ne ha bisogno, finalmente una risposta concreta delle istituzioni.